Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria. Con 8.000 voti in più, il centrodestra si conferma la guida della regione dopo lo scossone giudiziario su Toti. Quello che conta è che la Liguria continui sul percorso intrapreso, dice il neo governatore. D'illusione per Orlando, nonostante il PD sia risultato il primo partito, crollo del Movimento 5 Stelle e nel centro-sinistra riparte lo scontro tra Renzi e Conte. Indagini a tutto campo della Procura di Milano su Equalize, l'agenzia investigativa al centro del fascicolo sui presunti dossieraggi. Scoperta anche a Roma una centrale di dossier coinvolti ex militari che avrebbero lavorato per committenti esteri. Il governo ha lavoro per adeguare le norme e le tecnologie, mentre il PD chiede che la Meloni vada in aula a riferire sulla vicenda. Durissimo scontro tra ONU e Israele e sull'agenzia per i rifugiati palestinesi messa al bando dal Parlamento israeliano con l'accusa di connivenza con Hamas. Di voto scandaloso parla il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, e anche l'Europa condanna la decisione di Tel Aviv. In Georgia è in corso il riconteggio delle schede, ma solo nel 14% dei seggi. La decisione dopo le accuse di brogli dall'opposizione per il primo ministro ungherese Orban in visita nel paese, sono state elezioni libere e democratiche. Per la morte di Aurora, la tredicenne di Piacenza, precipitata dal balcone del suo palazzo, fermato il fidanzato di 15 anni che si trovava con lei al momento della caduta, la famiglia non ha mai creduto all'incidente o al suicidio. I carabinieri avrebbero acquisito un video di giorni precedenti in cui si vede il ragazzo insultare e picchiare la vittima. Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta, la promessa dello sci azzurro è morta questa notte per le ferite riportate ieri nella caduta durante un allenamento in Val Senales. Aveva perso il controllo degli sci battendo la testa sul ghiaccio. A novembre avrebbe compiuto 20 anni. Oggi torna alla Serie A con tre anticipi, a San Siro un bigano sfida in Napoli capolista, Lecce, Verona e Cagliari, Bologna, le altre gare. Una buona giornata dal telegiornale della SET, abbiamo un quadro più chiaro e un'analisi di voti e di flusso di voti come sempre capita dopo la tornata elettorale per quel che riguarda la regione Liguria con la vittoria di Bucci, 8 mila voti di scarto sul candidato del centrosinistra Orlando e tutta una serie di riflessioni, quelle che invoca la Schlein in questa fase per capire se cosa resta del campo largo e quella politica di incroci di veti che ha penalizzato soprattutto chi quei veti gli aveva posti. Diversa è la lettura naturalmente nel centrodestra, un segnale di fiducia, ha detto la Meloni e per capire in che direzione si andrà per quel che riguarda una regione che nei mesi passati è stata travolta anche dal punto di vista giudiziario abbiamo anche le parole del candidato, ora vincitore, nuovo governatore intervistato dal nostro Paolo Colombo. I servizi. Da sindaco di Genova e governatore della Liguria Marco Bucci, 64 anni e il nuovo presidente della regione del dopo Giovanni Totti scommessa vinta dalla premier Giorgia Meloni che ha fortemente voluto il primo cittadino della lanterna come frontman della sfida contro il candidato del centrosinistra che finisce con Bucci al 48,8% e l'ex ministro Dem, Andrea Orlando, al 47,4%. Esulta la presidente del Consiglio, oggi a Tripoli, per partecipare al Business Forum Italo-Libico una vittoria, quella del centrodestra che arriva sul filo e con un'affluenza le urne in caduta libera complice indubbiamente l'inchiesta per corruzione che ha terremotato la Giunta fatto scattare le manette per Totti e archiviata dall'ex presidente con il patteggiamento perde per poco più di un punto di distacco Orlando, 55 anni, sostenuto dal campo largo senza Italia Viva per il veto del leader 5 Stelle Giuseppe Conte all'indomani del voto, numeri alla mano, immancabili, polemiche e distingo e se Bucci, che ha sovvertito tutti i pronostici, sottolinea l'importanza della squadra avanti all'insegna della continuità, dice quello che ci hanno chiesto i Liguri Orlando, in un post su Facebook, si congratula con l'avversario e invita ad andare oltre le recriminazioni. Siamo arrivati ad un passo dalla vittoria ma non è bastato, ha scritto ma il centro-sinistra è tornato competitivo. Il centro-sinistra deve darsi un assetto coalizionale stabile perché non è possibile determinare il format di volta in volta. Questo dà un vantaggio enorme a una coalizione come quella dei nostri avversari che è in grado di essere pronta dopo una telefonata della sua leader. Da soli non bastiamo il commento della segretaria del PD e Lischlein che invita gli alleati alla riflessione. Da Italia Viva Matteo Renzi punta il dito contro il pentastellato Giuseppe Conte che da parte sua rivendica il veto contro l'ex premier. Sul tracollo dei Cinque Stelle infierisce il fondatore Beppe Grillo e ferri corti con la leadership. Si muore più traditi dalle pecore che sbranati da un lupo e il messaggio affidato a Whatsapp dall'ex comico impossibile non vederci una freccia avvelenata all'indirizzo proprio di Conte. Dalle urne il PD esce primo partito con il 28,5% nella regione. Quasi il doppio di Fratelli d'Italia a partito della Premier al 15,1%. Crollano i consensi per il Movimento 5 Stelle che non va oltre il 4,6% superato da Verdi e Sinistra al 6,2%. Decisivo per la vittoria del centrodestra al supporto delle liste civiche. Bucci perde molti consensi a Genova proprio dove è amministrato. La Lega tiene con l'8,5% la spunta su Forza Italia all'8% che però la tallona a distanza ravvicinata. Tra meno di 20 giorni si torna al voto per le regionali in Umbria ed Emilia Romagna. Quello che conta è che alla fine siamo riusciti a fare in modo che la Liguria continui il suo percorso senza dover tornare indietro. Questo è il risultato importante. I Liguri hanno deciso che una buona regione non torna indietro. Di questo sono molto contento, soddisfatto. Ci stiamo già rinvocando le maniche e stiamo andando avanti. Per ora resta comunque il sindaco di Genova fino al passaggio ufficiale che verrà fatto con il prefetto. Restano però ad effettuare alcune ultime pratiche in comune. Non accade spesso che un sindaco venga letto presidente della regione quindi bisogna sistemare tutte le varie parti burocratiche. Nel frattempo io sto già lavorando alla competizione della Giunta quindi sono molto confidente che le cose andranno avanti veloci e bene. Noi saremo il sindaco e presidente di tutta la regione perché come si dice in America he is not my favorite president but he is my president. Quando le elezioni sono fatte si decide, poi si va avanti tutti allineati. Anche la forza della nostra coalizione dove possiamo discutere ma alla fine poi raggiungiamo la decisione e andiamo avanti tutti allineati. Cosa che non è successa invece dall'altra parte. Senza dubbio questo è il tema in primo piano ma restano anche tutti i tasselli che si aggiungono ora dopo ora sul lavoro della procura di Milano insieme alla DDA nazionale che riguarda quegli 800 mila profili, non tutti politici a dire la verità, spiati. C'è una lista di spiati ma anche una lista di spioni per usare lo stesso termine. C'è anche un tariffario a seconda del profigo che si andava a intercettare. Un lungo elenco anche del materiale che in queste ore gli inquirenti stanno acquisendo e dunque si dovrà capire qual è la differenza tra quanto è emerso anche nelle intercettazioni e quanto poi effettivamente è stato fatto. Con molti fronti ancora aperti che sono quelli che riguardano per esempio l'antimafia che valuta delle azioni da intraprendere e poi ancora gli interrogatori che arrivano i primi nella giornata di giovedì. Le indagini della procura di Milano si concentrano sul grande archivio cartaceo sequestrato a Carmine Gallo, l'ex superpoliziotto a capo di Equalize, l'agenzia investigativa al centro dei presunti dossieracci. Un tesoro che, secondo i magistrati, Gallo avrebbe nascosto nel garage della sua segretaria quando il gruppo si era accorto dei virus informatici della procura nei loro computer. Si indaga anche su quei report riferiti da alcuni ricchi cittadini russi con interessi economici in Italia. I magistrati vogliono capire se quelle informazioni possano essere state vendute da agenzie straniere, sequestrato anche un server in Lituania. Ma il nodo da sciogliere più importante è un altro. Quello che dice l'hacker Samuele Calamucci intercettato sono parole in libertà o fatti concreti. La sua piattaforma ultra tecnologica Beyond ha davvero bucato la banca dati del Ministero dell'Interno o gli oltre 800.000 dati riservati in suo possesso gli sono arrivati da pubblici ufficiali infedeli affiliati al gruppo. Calamucci millanta o dice la verità? Per questo i magistrati valutano una rogatoria in Inghilterra per sequestrare quel server a Londra del quale si sarebbe servito la banda. Non ultimo, tra gli interessi di Equalax, c'è anche il tema della politica. I report di cui parla intercettato l'amministratore delegato Enrico Pazzali sul Presidente del Senato la Russa, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, il Partito di Forza Italia erano solo nell'intenzione non concretizzata del manager o sono stati effettivamente portati a segno? Secondo la Procura si tratta di un pericolo per la democrazia. Secondo il giudice delle indagini preliminari invece in questa storia centrano solo interessi economici e imprenditoriali. Si capirà meglio giovedì, quando Pazzali, che ieri si è autosospeso dalla carica di Presidente della Fondazione Fiera Milano estranea all'inchiesta, Calamucci e Gallo sosterranno l'interrogatorio di garanzia. Il primo è indagato a piede libero, gli altri due sono ai domiciliari, ma su di loro appende anche la decisione del Tribunale del Riesame richiesta dai pubblici ministeri che invece vogliono Pazzali ai domiciliari e Calamucci e Gallo in carcere. Intanto, su un altro caso, d'ossieraggi si muovono i magistrati antimafia di Roma che hanno intercettato una banda gemella a quella milanese, la Squadra Fiore, una sorta di rete clandestina con sede nel quartiere nord-est della capitale scoperta mesi fa dal giornalista Fabrizio Gatti. Peraltro, tornando invece all'attività di Cyberspie di Milano emerge in questi minuti come tra i clienti e i dati rubati ci fosse anche l'ILVA in amministrazione controllata. Per il resto, lo sentivamo nel servizio del nostro screen dipenderà molto capire anche quanto effettivamente è stato fatto, quanto è stato realizzato rispetto alle intenzioni e alle promesse fatte dalle persone coinvolte e poi ci sono le reazioni, quelle politiche molto forti e di diverso tipo. Le abbiamo riassunte in questo servizio. Il dossieraggio, l'archivio del Viminale Bucato, i nomi illustri finiti nelle carte dell'inchiesta. Dopo il primo shock, la politica si interroga sulle misure da mettere in campo per rispondere al fenomeno delle intrusioni telematiche illegali sempre più frequenti. Le leggi ci sono e una stretta ulteriore è stata introdotta a gennaio scorso quando il governo ha dato disco verde al DDL in materia di reati informatici e di rafforzamento della cybersicurezza nazionale con pene raddoppiate e multe più salate per chi viola i sistemi informatici. Ieri il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, era a Palazzo Chigi, ma la Premier al momento non è intenzionata a intervenire con ulteriori provvedimenti. Si cerca di capire quale sia la strada da battere per arginare un fenomeno che la stessa Presidente del Consiglio ha definito potenzialmente eversivo. Stamattina al Ministero della Giustizia vertice di maggioranza sul timing dei lavori dei diversi provvedimenti in materia di giustizia all'esame del Parlamento, ma è inevitabile che con i capigruppo di maggioranza il guardasigilli Carlo Nordio affronti anche l'annoso capitolo dei rossi raggi sul quale le opposizioni chiamano a gran voce la Premier a riferire. Sulle motivazioni che hanno mosso Iacher ad agire è intervenuto ieri sera il Presidente del Senato Ignazio Larussa, finito anche lui nel mirino dell'Equalize. Può essere una ragione economica, di curiosità o una richiesta che non si può rifiutare. Io su questa terza ipotesi concentro la mia attenzione per questo ultimo caso, perché credo che Pazzali si avesse potuto dire di no a chi ha chiesto di dossierare me e miei figli, probabilmente lo avrebbe detto, voglio sapere a chi non ha potuto dire di no. Dicevamo della Meloni, il commento sul voto Ligure ma anche l'intervento in un viaggio importante nell'ottica del Presidente del Consiglio, quello in Libia. Il governo italiano vuole essere a fianco della Libia nella nuova fase di ricostruzione e sviluppo. Queste sono le parole arrivate dalla Meloni oggi a Tripoli in occasione del Business Forum Italia-Libia. Vediamo anche alcune immagini insieme al lavoro che fa l'Italia per combattere l'immigrazione illegale di massa ha detto Meloni, c'è il nostro impegno per favorire i canali dell'immigrazione legale. Il decreto flussi triennale favorirà l'ingresso nel nostro paese di 450 mila lavoratori stranieri. Questi meccanismi però funzionano solo se c'è collaborazione tra i due paesi. Tra gli altri passaggi, la Premier ha anche annunciato che da gennaio del prossimo anno Itaerwes tornerà a collegare l'Italia con la Libia. Andiamo adesso al Capitolo Medio Oriente, il conflitto in corso. Come sapete da una parte ci sono le notizie che ci riportano a quel che resta della possibilità, allo spiraglio di una trattativa e di un accordo che riguarda sempre da una parte il cessato del fuoco e dall'altra la liberazione degli ostaggi, la mediazione egiziana in primo piano. E poi però c'è un'altra notizia, forse la più importante di giornata, che riguarda l'azione dell'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi. Più volte è minacciata la possibilità che agisce sul territorio. Il Parlamento di Tel Aviv ha deciso di bandirla e questa ha una serie di conseguenze davvero devastanti su una popolazione già devastata dai raid israeliani. Proibire il lavoro essenziale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi avrà conseguenze devastanti. Israele deve agire coerentemente con i suoi obblighi derivanti dalla Carta dell'ONU e del diritto internazionale. La denuncia arriva dal segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo il voto della Knesset, che ieri si è espressa a favore dei due disegni di legge che proibiscono all'Agenzia delle Nazioni Unite di condurre attività o servizi all'interno del Paese interrompendo anche i rapporti diplomatici con l'organismo del Palazzo di Vetro. Ma è tutta la comunità internazionale a criticare duramente la decisione adottata dal Parlamento a Gerusalemme. Il lavoro dell'UNRWA è essenziale e insostituibile per milioni di rifugiati palestinesi nella regione e in particolare nell'attuale contesto di Gaza hanno scritto in una nota congiunta i rappresentanti di molti Paesi tra i quali Regno Unito, Francia, Spagna, Norvegia e Irlanda. Se la legge verrà attuata sarà un disastro. Il commento dell'Agenzia delle Nazioni Unite parla di conseguenze devastanti. Anche il direttore generale delle OMS, Ghebreyesus, intanto uno spiraglio potrebbe aprirsi nelle trattative per arrivare ad una breve tregua tra Israele e Damas. La conferma arriva direttamente da Netanyahu, come scrive il sito statunitense Axios, secondo il quale nel corso del vertice tra i capi dei servizi segreti ospitato a Doha in Qatar si sarebbe trovato un accordo che prevede il rilascio di alcuni ostaggi israeliani in cambio di una ventina di detenuti palestinesi. Diplomazia lavora anche tra Iran e Arabia Saudita. In una conversazione telefonica i rispettivi ministri degli esteri hanno lanciato un appello perché tutti i paesi della regione si impegnino per prevenire l'espansione dell'insicurezza e proprio il responsabile della politica estera di Teheran, Abbas Aragaci, di ritorno a Teheran il 5 ottobre da una missione a Beirut, avrebbe ospitato sul suo aero Naim Kassem, indicato da Hezbollah, come il successore di Hassan Nasrallah, ucciso a settembre nella capitale libanese da un raid israeliano. Raid che non si fermano. A Betlaia, nel nord di Gaza, almeno 93 le persone uccise nell'attacco israeliano che ha distrutto un palazzo, mentre il Libano, nella valle orientale della Beca sono 60 le vittime, decine i feriti, ancora sotto le macerie. Seguiremo naturalmente passo dopo passo anche la campagna elettorale americana fino alla giornata del voto, una settimana per capire che cosa succederà, se verranno premiate le ambizioni di Donald Trump di tornare alla Casa Bianca oppure il sogno di Kamala Harris di arrivarci per la prima volta. La caccia all'ultimo voto, gli ultimi comizi e naturalmente anche l'ultimo scambio di accuse che segneranno queste ultime giornate di campagna elettorale. Abbiamo un piccolo segreto, io e Mike Johnson, lo speaker della Camera, una frasetta buttata lì da Donald Trump nel suo discorso al Madison Square Garden che sta terrorizzando i democratici e dopo quanto è accaduto il 6 gennaio di quattro anni fa una fetta consistente dell'America. Il motivo è che Mike Johnson è il primo sostenitore delle teorie cospirazioniste di Trump sui brogli dei quali non c'è alcuna prova dopo i ricorsi di ogni genere anche nei tribunali americani che avrebbero impedito all'allora presidente in carica di riconfermarsi alla Casa Bianca. Johnson è considerato l'architetto delle pressioni fatte sull'allora vicepresidente Mike Pence per spingerlo a non certificare il voto proprio il 6 gennaio e quest'anno come speaker della Camera è in una posizione privilegiata con in mano tutte le carte per fare altrettanto in prima persona. Il procedimento costituzionale infatti prima di arrivare alla vicepresidenza passa per le sue mani e in quelle dei deputati e dei senatori eletti sia Johnson che Trump da giorni già lamentano nuovi presunti brogli nel pre-voto in corso e nel voto per posta stiamo parlando nel complesso di quasi 100 milioni di preferenze quasi la metà del volume totale che verrà scrutinato qui vedete una delle urne del voto per posta data le fiamme in Oregon peraltro uno stato tutt'altro che conteso ma è come quest'anno ai seggi ogni partito invierà una pletora di osservatori ed avvocati pronti a contestare ogni minima irregolarità percepita ed in questo clima rovente ad una settimana dell'Electoral Day non sono certo i candidati a moderare i toni scandendo un ininterrotto scambio di colpi sotto la cintura ed attacchi personali i democratici continuano a ripetere che Trump è un nazista e che la sua elezione segnerà la fine della democrazia americana il candidato repubblicano risponde additandoli in effetti con una retorica da regime come il nemico interno contro il quale bisognerebbe usare la guardia nazionale Kamala Harris poi ripete Trump a un basso quotiente intellettivo pronta a sostenere qualsiasi test cognitivo risponde l'avversaria democratica se lo farà anche Trump da lei invece dipinto come troppo anziano e sempre più instabile e squilibrato e poi c'è anche ancora il conflitto in Ucraina cresce la pressione russa in particolare sul fronte del Donbass Mosca ha annunciato la conquista di nuove località mentre procede verso Pokrovsk un hub logistico importante e considerato chiave in questa fase delicata del conflitto intanto continua a suscitare preoccupazione a livello internazionale l'arrivo di truppe nordcoreane a sostegno dei militari russi per la Corea del Sud questa presenza rappresenta una vera minaccia alla sicurezza nazionale così ha dichiarato il presidente generali nordcoreani potrebbero presto essere in attività sui campi di battaglia c'è un'altra situazione che la comunità internazionale sta monitorando che crea anche preoccupazione crescente che è quel che riguarda la Georgia ancora una volta la risposta più potente è arrivata dalla piazza dalla gente che è scesa in piazza nuovamente dopo la tornata elettorale che ha confermato al governo al potere il partito che c'è già da 12 anni in un clima di minacce e di broglie almeno questa è l'accusa delle opposizioni si riconteranno i voti ma solo in alcuni seggi e solo a campione ed è stata soprattutto molta impressione la visita di Orban che è arrivato parlando di vittoria schiacciante di questo partito il governo georgiano almeno in parte sembra aver ceduto dopo le manifestazioni con decine di migliaia di persone in piazza a denunciare i presunti brogli nel voto di sabato scorso la commissione elettorale nazionale ha dato il via libera ad un parziale riconteggio delle schede elettorali un segnale per abbassare la tensione con le opposizioni che contestano i risultati 53,9% al partito di governo sogno georgiano 37,7% alla coalizione alternativa i gruppi che puntano all'ingresso nell'unione europea denunciano diffuse irregolarità intimidazioni ai seggi schede precompilate una manifesta ingerenza della russia a favore del partito di governo anche per gli organismi internazionali di controllo l'intera procedura elettorale è stata viziata e andrebbe invalidata secondo le ONG locali nella Georgia occidentale avrebbe votato il 133% nel nord al confine con la russia più del 128 nella regione della minoranza armena il partito sogno georgiano avrebbe addirittura avuto più voti degli aventi diritto segnalazioni non percepite però dalle autorità che hanno stabilito un criterio a campione il riconteggio avverrà nel 14% dei seggi 5 scelti a caso per ciascun distretto elettorale ieri a Tblisi è arrivato il premier ungherese urbano che ha definito le elezioni libere democratiche avete votato per la pace evitando alla Georgia di diventare una seconda Ucraina ha detto e anche la Cina si è congratulata per la vittoria col partito di governo i ministri degli affari europei di 13 paesi si dicono invece profondamente preoccupati per l'attuale situazione nel paese e la visita di Urbana è stata giudicata inopportuna mentre gli Stati Uniti chiedono a Tblisi il ritorno ad una posizione transatlantica sono veri i propri ultimatum che l'Occidente indirizza al governo in carica ha commentato stamane il Cremlino il voto di domenica è stato preceduto da mesi di proteste e uno scontro di potere tra il premier Cuba Kids sostenuto dal miliardario Ivanisvili vicino a Mosca e la presidente Salome Zurabishvili francese naturalizzata georgiana allieva del politologo brezinski alla Columbia University al centro al centro del contrasto politico le leggi sul modello russo per la difesa della sovranità nazionale varate dal governo contro le organizzazioni estere operative nel paese e contro le ONG che operano per i diritti delle minoranze LGBT Sarà soprattutto la prossima una settimana molto importante per il cammino della manovra in un contesto che è chiaro ribadito dalla Meloni ma anche dal ministro Giorgetti di scelte anche dolorose da fare ci saranno le audizioni con le parti sociali convocati a Palazzo Chigi anche i sindacati quel che manca soprattutto la pressione degli imprenditori per una manovra più coraggiosa e poi un settore che è in difficoltà non solo in Italia vediamo cosa cambia da questo punto di vista Chi aspettava i nuovi incentivi per acquistare una nuova auto andrà deluso Palazzo Chigi nella legge di bilancio ha tagliato circa 4 miliardi e mezzo di euro al fondo Automotive creato appositamente dal governo Draghi per sostenere la riconversione del settore che sta vivendo una profonda crisi in Italia come in Europa un taglio inaccettabile per l'Anfia l'associazione delle imprese dell'intera filiera che ha denunciato la sforbiciata e ha messo in allarme tutti gli attori a partire dai sindacati non una bella notizia per uno dei settori manifatturieri più importanti del paese con oltre 270 mila addetti diretti e un fatturato di oltre 100 miliardi di euro scrive l'Anfia è l'unico settore a cui è richiesta una trasformazione obbligatoria epocale in pochi anni e non è certo la risposta che i sindacati si aspettavano da parte del governo dopo lo sciopero nazionale del 18 ottobre scorso proclamato per chiedere appunto più attenzione e maggiori risorse a sostegno della competitività del settore dell'innovazione tecnologica e della difesa dei posti di lavoro sulla manovra si apre così un nuovo fronte di scontro con il governo per il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso intervenuto ieri sulla questione l'idea è quella di sostenere non la domanda e quindi dare incentivi ai consumatori per l'acquisto di auto non inquinanti ma l'offerta e quindi le imprese produttrici le rimanenti risorse chiarito in una nota saranno tutte destinate agli investimenti produttivi con particolare attenzione alla componentistica che è la vera forza del Made in Italy vedremo se questa direzione sarà confermata nell'iter di approvazione parlamentare della legge di bilancio o se come sperano in molti il governo cambierà a rotta certo è che oltre alla concorrenza cinese alla transizione verso l'elettrico voluta da Bruxelles c'è anche il calo della domanda a mettere in ginocchio l'industria automobilistica italiana e tedesca ed ieri infatti la notizia di un piano di ristrutturazione lacrime e sangue della Volkswagen che prevede la chiusura di tre stabilimenti in Germania il taglio di decine di migliaia di posti di lavoro e del 10% dei salari dei dipendenti la cronaca italiana in primo piano la svolta investigativa sulla morte di quella giovanissima ve ne parlavamo ieri Aurora di 13 anni volata giù dal balcone della sua abitazione sentiamo strattonamenti per strada insulti violenze fisiche e verbali notate nei mesi scorsi da passanti che avevano provato ad aiutare Aurora la 13enne precipitata venerdì mattina dal terrazzo al settimo piano del palazzo dove abitava Piacenza da ieri in carcere con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 15 anni con cui lei aveva una relazione da gennaio lei aveva provato a troncare due volte ma lui era sempre tornato geloso e possessivo la legale della madre della ragazza Lorenza Dordoni ha messo insieme una memoria che presenterà gli inquirenti nelle prossime ore contiene foto e chat di chi è stato testimone di questi comportamenti come tre ragazze minorenni che a inizio ottobre avevano notato una ragazzina minuta in difficoltà alla fermata delle corriere un ragazzo molto più robusto la strattonava e insultava era l'orario dell'uscita da scuola una delle minorenni ha finto di conoscere Aurora ed è andata a parlarle allontanando il ragazzo nel frattempo le altre due avevano scattato foto della scena ci sarebbe anche un video consegnato ai carabinieri nella memoria anche il referto della visita di un medico specialistico dopo che Aurora aveva lamentato dolori per un contatto fisico inopportuno e ancora chat in cui si parlava dei comportamenti maneschi del ragazzo lui ora nel carcere minorile di Bologna entro domani si terrà all'interrogatorio di garanzia oggi invece sarà concluso l'esame autoptico sul corpo della ragazza gli accertamenti esterni svolti finora hanno evidenziato un trauma cranico sarà analizzato ulteriormente per capire se provocato dalla caduta o antecedente i due venerdì mattina erano sul terrazzo dove altre volte si erano appartati poco dopo le 9 lui ha chiesto aiuto dicendo che Aurora si era buttata di sotto a questa versione la famiglia della ragazza non ha mai creduto tra pochi giorni Aurora avrebbe compiuto gli anni aveva progetti i compagni di liceo l'hanno ricordata con tanti palloncini bianchi e giovedì si terrà una fiaccolata la madre ora si dice sollevata dal fermo del ragazzo ha detto i sospetti sono confermati aveva progetti e tanti e molti legati alla sua passione sportiva Matilde Lorenzi che è quella sciatrice promessa talento della nazionale femminile che è morta in seguito a una caduta in Val Senaglia si stava allenando che con sue condizioni sono apparse subito molto gravi e è arrivata la notizia che non ce l'ha fatta lasciando la famiglia peraltro appassionata di sport come tutti i fratelli nel dolore più profondo gli allenamenti duri per raggiungere il suo sogno i tramonti sulle piste le amiche del cuore la moda Matilde Lorenzi ripeteva spesso che lo scile aveva insegnato a competere ad essere felice a dare il meglio di sé ciao mi chiamo Matilde Lorenzi ho 17 anni e fin da piccola scio nello sci club Sestriere torinese residente al Sestriere ieri si stava allenando con la squadra nazionale italiana a C poi la caduta terribile su una pista del ghiacciaio in Val Senales Alto Adige la giovane promessa azzurra atleta dell'esercito è morta ieri in ospedale a Bolzano fin da subito le condizioni della sciatrice erano apparse gravissime l'atleta azzurra è caduta sbattendo la testa sul ghiaccio quando uno degli sci si è sganciato è finita fuori pista immediati i soccorsi era stata intubata e trasportata in elicottero in ospedale inutili tentativi di salvarla in un post su X è il ministero della difesa a dare la notizia il ministro Crosetto dice sono addolorato per la scomparsa a soli 20 anni di Matilde Lorenzi promessa dello sci azzurro un talento cristallino spezzato dal destino 20 anni li avrebbe compiuti tra poco Matilde era specialista di velocità a discesa libera e super gigante nel 2003-2024 in Val Sarentino aveva vinto il titolo italiano assoluto giovani battendo l'azzurra della squadra di Coppa del Mondo Laura Pirovano sul profilo Instagram della giovane promessa dello sci italiano la montagna che aveva un posto speciale ma anche i tramonti e Ibiza della montagna diceva quando si vede una pista tanto ripida si pensa mamma mia la devo proprio fare poi invece si rivela una cosa divertente perché sciare è sempre divertente è un posto dove sentirsi liberi e lasciarsi andare Allora andiamo al campionato di calcio con i risultati che arriveranno da questo turno infrasettimanale molto atteso senza dubbio il capitolo che riguarda il Napoli che va in campo questa sera la prova è una prova importante a San Siro contro il Milan peraltro la squadra di Conte è poi attesa da un ciclo con Atalanta Inter e Roma dunque capiremo davvero se la fuga è poggiata su vera gloria Stavolta il pallone d'oro non è andato al solito bomber e la consegna del trofeo al 28enne Rodri centrocampista campione d'Europa con la Spagna e d'Inghilterra con il Manchester City ha fatto arrabbiare il Real Madrid che puntava sull'incoronazione di uno dei suoi gioielli il brasiliano Vinicius o l'inglese Bellingham una soffiata sul nome del vincitore ha infatti spinto il più grande club del mondo a boicottare clamorosamente la cerimonia di premiazione e su ordine del presidente Perez nessun tesserato della Casablanca ha raggiunto ieri sera Parigi neppure Carlo Ancelotti eletto allenatore dell'anno assente ma questo lo si sapeva anche il nostro calcio senza italiani 3-30 nomi in classifica solo settimo l'argentino dell'Inter Lautaro Martinez più staccati gli altri quattro rappresentanti della Serie A che oggi apre l'unico turno infrasettimanale della stagione tre gli anticipi della decima giornata Cagliari-Bologna Lecce-Verona e Milan-Napoli a San Siro vietato sbagliare per i rossoneri scivolati a meno otto dalla vetta ma con una partita da recuperare le due vittorie su Udinese e Bruges hanno rafforzato la posizione di Fonseca per il quale è arrivato il momento della svolta il tecnico portoghese sarà privo di Teo Hernandez e Reinders che con il rinvio della gara di Bologna non hanno scontato la squalifica fuori anche l'infortunato Gabbia mentre per Leao si profila un'altra panchina il big match del Meazza rappresenta un esame verità anche per il Napoli capolista al comando con quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda i partenopei sono all'inizio di un ciclo di ferro in cui Conte chiede conferme sulla forza di una squadra che nelle nove partite di campionato successive al disastroso esordio di Verona ha collezionato sette successi e un pari in campo dall'inizio Politano e Kvaraschelia fiducia a Gilmour come vice Lobotka infine sempre appesa un filo Juric a decidere il destino del tecnico della Roma sarà la partita con il Torino di giovedì stesso giorno del debutto di Balotelli con la maglia del Genoa che a Marassi affronterà la Fiorentina aggiungiamo una notizia che riguarda il tennis finale di stagione davvero intenso per Yannick Sinner che non giocherà il torneo di Parigi Bersi ha annunciato che dovrà riposarsi e rimettersi da un virus intestinale ma ha anche aggiunto la notizia più attesa che non ha paura di poter mancare il doppio appuntamento le TPI Finals di Torino e poi la Coppa Davis l'aggiornamento per quel che ci attende per la redazione digitale buongiorno Vittorio Russo a te Buongiorno a te Cristina buongiorno a tutti noi torneremo sulle elezioni regionali in Liguria attraverso le parole della moglie di Marco Bucci poi le elezioni in America con l'invito a votare da parte della pop star considerata un po' la regina del Natale e infine l'ultima trovata l'ultima impresa non cinematografica di Colin Farrell tra poco Ci fermiamo pubblicità e torniamo in diretta tra poco Di nuovo insieme ancora lo spazio della redazione digitale Vittorio a te Grazie Adriana bentornati l'abbiamo ascoltato nel corso del telegiornale Marco Bucci ha vinto le elezioni regionali in Liguria battendo per poche migliaia di voti il candidato del centro-sinistra Orlando Ci torniamo sull'argomento perché c'è il racconto che la moglie di Bucci Laura Sansebastiano ha fatto al Corriere della Sera raccontando un po' in retroscena di questa esperienza politica e anche un po' di vita privata Ascoltiamo Come vanno i coronari e l'infarto no è pazzesco è stato un duello mamma mia dovrebbe essere ancora vivo è ancora in comune all'inizio come sapete tutti non ero così contenta però a quel punto visse la sua decisione ho giocato con lui mi sono messa in gioco in minima parte che aveva voti anche lei no però l'ho appoggiato l'ho sostenuto gli facevo uova e bacon insomma alla prima elezione lui ha perso 7 chili nel mese delle elezioni e gli ho detto non ti puoi permettere adesso di perdere nuovamente 7 chili per questo uova e bacon io e il Vucci sono 36 anni che siamo sposati più 4 di fino a 40 ci dica la prima volta la prima volta che vi siete visti completo la frase non volevo sapere altro ci siamo conosciuti all'università nei laboratori come era molto bravo e io non molto bravo però appunto mi avevano andato ad analizzare una sostanza non riuscivo a capire cosa fosse perché era una cosa un po' particolare un po' era chimico un prodotto chimico e poi una mattina dopo arriva e fa ho avuto un'idea ecco cos'è e mi dice così e da lì ma era sì era il cloraleo idrato che era una il cloraleo idrato i messaggini ecco adesso andiamo negli Stati Uniti con la prima apparizione in campagna elettorale dopo la convention democratica d'estate di Michelle Obama l'ex first lady ha introdotto Kamala Harris al comizio in Michigan e poi ha tenuto un discorso molto incisivo al di là delle aspre critiche nei confronti di Trump si è rivolta direttamente agli uomini americani ribadendo loro l'esigenza di difendere i diritti delle donne ascoltiamo una parte delle sue parole stando sempre sul comizio in Michigan alla folla che la osannava e che gridava ripetutamente il suo nome Kamala Harris ha risposto così un video virale sui social come l'avevo detto poi nel corso delle anticipazioni è arrivato un ulteriore invito al voto questa volta da parte della pop star che è considerata un po' la regina del Natale Mariah Carey sui suoi canali social ha pubblicato un video ironico in cui sta lì lì per cantare la sua famosa hit natalizia All I want for Christmas is you quando arriva l'attrice Kerry Washington che la interrompe e le dice di non essere ancora arrivati in quella stagione guardiamo No, 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 it's not your season yet, Mariah, it's voting season, okay, now I need to know, have you registered, yes, I have registered, did you make a plan, I made a plan, I executed it, yes, that's amazing, because it's my season before it's her season, so now all we need is you, Now we move on to Spagna perché c'è una forte ondata di maltempo che sta coinvolgendo soprattutto la parte meridionale del paese lo guardiamo in questo video nubi fragi e grandinate con chicchi fino a 5 centimetri di diametro ad Acquadulze nella provincia di Almeria ma secondo l'agenzia statale di meteorologia il maltempo potrà arrivare anche nella zona del litorale catalano e anche nella parte più settentrionale nella zona della comunità valenziana scuole chiuse oggi in tutto il sud-est del paese adesso parliamo di Colin Farrell la sua ultima impresa non cinematografica è legata al suo impegno nelle opere umanitarie soprattutto quelle legate allo sport infatti l'attore ha corso le ultime 2,5 miglia della maratona di Dublino in Irlanda e l'ha fatto in modo particolare spingendo la carrozzina di una sua cara amica Emma Fogarty che è affetta da una rara malattia della pelle vediamo insieme il momento in cui tagliano il traguardo ecco questo è il momento successivo al taglio del traguardo ed è una opera di beneficenza per l'associazione Edebra che si occupa di chi soffre di condizioni genetiche incurabili ricordiamo che anche il figlio di Colin Farrell soffre di una malattia rara ed è per questo che è stata poi fondata la Colin Farrell Foundation questa era l'ultima notizia vi ricordo come sempre il sito tg.la7.it per ulteriori informazioni tutti i nostri canali social vi aspetto domani restituisco la linea a Cristina grazie allora abbiamo un ultimo aggiornamento che riguarda la giornata politica di oggi perché ha annunciato il CDM per le ore 16 nell'ordine del giorno vi abbiamo parlato a più riprese in questi giorni in una stretta invocata ma anche imposta dalle notizie che arrivano dalla procura di Milano sull'accheraggio e i dossier e la lista degli spioni e degli spiati per così dire in particolare nell'ordine del giorno sono annunciate misure urgenti in materia di ordinamento giudiziario di personale di magistratura di incarichi dirigenziali di competenza anche investigativa sulla criminalità informatica con questo ci fermiamo lascio la linea Tagadà naturalmente il giornale torna questa sera alle 20 ci vediamo domani arrivederci grazie a tutti